Ciao, sono Gianmarco Capogna e sono il portavoce nazionale di Possibili LGBTI+, un'organizzazione politica italiana che si batte per i diritti e le libertà di tutte e tutti. Oggi mando un grande saluto ed un abbraccio alle compagnie e compagni di Plataforma Trans che in Spagna stanno organizzando questa importante conferenza sui crimini d'odio, sulle violenze, le aggressioni e le uccisioni a danno di persone trans. In tutta l'area europea l'Italia è seconda solo alla Turchia per il numero elevatissimo di violenze, aggressioni e delitti per transfobia. La nostra è una vera e propria emergenza, alla quale cerchiamo di dare una risposta con le battaglie italiane ma anche mettendoci a disposizione di ampie alleanze europee che possano mettere al centro i diritti, la libertà e l'autodeterminazione per tutte e tutti, specialmente per le persone trans. Oggi, in questa giornata in cui in tutto il mondo ricordiamo le persone vittime per transfobia, lanciamo la nostra denuncia e ci uniamo all'importante messaggio che le compagnie e compagni di Plataforma Trans stanno mandando con questa importante conferenza. Un caro saluto e ci uniamo nella lotta in un grido che ci accomuna tutti e tutte. Ni una massa.